ciao ragazzi oggi nel pomeriggio non so ancora bene quando ma nel pomeriggio vedremo di fare dal mixer per luci con in azione il mega sub questo qua vi va al posto di quello piccolo ovviamente non lo alzo sì di tanto però vedremo di sentire come suona d'accordo ci vediamo nel pomeriggio penso sulle 6 5 e mezza 5 così con l'orario la buona alla prossima ciao ciao